Un saluto a tutti alla Notte Europea dei ricercatori della Puglia, dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, un ringraziamento all'Università degli Studi di Bari che ci ha ospitato. Io sono Riccardo Di Deo, nutrizionista e divulgatore scientifico della Fondazione AIRC e con me ho il piacere di avere il professor Antonio Moschetta, ordinario di medicina interna dell'Università di Bari e naturalmente ricercatore AIRC. Ciao Antonio. Un saluto a tutti, ciao a tutti, un saluto. Allora Antonio, con te parleremo di obesità e tumori e la prima domanda che ti faccio è quanto incide l'obesità sul rischio di sviluppare un tumore e quali sono i tumori, le forme di tumori più correlate all'obesità? Beh sicuramente l'obesità, guarda soprattutto l'obesità di tipo addominale, quindi io mi preme sottolineare l'aumento del girovita al di sopra di 100-110 cm di gran lunga in grado di aumentare l'incidenza di alcuni tumori, soprattutto tumore della mammela, i tumori del tratto gastroenterico, dall'esofago fino al colon, anche il tumore della prostata, ultimamente anche alcune emolinfopatie. Ma il dato importante da dire è che non è solo un aumento della incidenza, cioè del numero delle persone che si ammalano, bensì gli ultimi studi anche ottenuti sul tumore della mammella sottolineano che una donna che alla prima diagnosi, con lo stesso stadio, la stessa terapia del tumore, è in uno stato di obesità, arriva ad avere 25-30% in meno di capacità di guarire a 5 anni. Quindi che è un dato importante ci dice che bisogna stare in salute dal punto di vista metabolico per ammalarsi di meno e soprattutto perché qualora ci si ammana si possa riuscire a far funzionare meglio le cure stando in salute. Quindi è un importante fattore di rischio sia nell'ambito della prevenzione che poi nel momento in cui si sviluppano alcuni tipi di tumore e a questo punto qual è il meccanismo che l'obesità, le varie tipologie di obesità possono influenzare e innescare poi tutto il processo di sviluppo tumorale? Gli ultimi dieci anni sono stati anni attivissimi per questo campo che si chiama metabolismo del cancro, cioè qual è la benzina che il tumore utilizza eventualmente per crescere. E i dati sono tanti, si parte dalla possibilità di avere un'infiammazione cronica dovuta all'aumento del girovita, all'aumento dell'accumulo di grasso e l'infiammazione va a cambiare quelle cellule circolanti che poi arrivano e nutrono il cancro, il famoso microambiente, cioè quello che sta intorno al cancro. Però l'obesità così come un inizio di diabete si associa anche all'iperglicemia, all'iperinsulinemia che sono dei fattori importanti nell'aumentare il rischio di alcuni tumori, pensiamo al tumore soprattutto del coloretto. Infine ci possono essere tante altre ragioni che correlano la obesità metabolica al cancro ed è quello che tutti stanno studiando, trovare dei nuovi target che possano bloccare l'energia di crescita del cancro. Vedi un po' come è avvenuto per gli ormoni, quando per il tumore della mammella abbiamo scoperto che gli estrogeni erano in alcune donne la benzina per la crescita, disegnare un antiestrogeno è stata per noi la prima modalità di terapia metabolica antitumorale. E così avverrà quando avremo inteso quali sono tutte le strade metaboliche del cancro. Nel frattempo ecco una sartorialità di educazione alla salute basata su stile di vita e esercizio fisico, non perché la nutrizione cure il cancro, ma perché essere in salute con una dieta adeguata e un lifestyle significa ammalarsi di meno e come abbiamo appena detto curarsi meglio. Ecco Antonio, hai parlato di stile di vita, fatto di attività fisica, alimentazione, un certo tipo di alimentazione. Noi come popolazione italiana siamo diciamo i portatori della dieta, della famosa dieta mediterranea, del modello mediterraneo. Allora ti chiedo, questo può essere un modello pensando proprio al complesso della dieta che ci aiuta a mantenere il peso nella norma e nella prevenzione delle patologie oncologiche? Indubbiamente, se sapessimo davvero cos'è la dieta mediterranea, questo lo dico per tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché insomma il basso indice glicemico, le pause, gli orari giusti in cui assumere gli alimenti insieme all'esercizio fisico fanno parte della dieta mediterranea, non è solo quello di evitare qualcosa o di fare cinque porzioni di verdure che pure sono importanti, ma se sapessimo cos'è allora la dieta mediterranea insieme ad altri paradigmi nutrizionali rappresentano davvero la longevità nei grandi studi a lungo termine. Ora però, Ricci, diciamolo a chi ci ascolta, non si può pensare che siamo tutti uguali al nastro di partenza e soprattutto non si può pensare di diventarlo quando scopriamo una malattia. Noi dobbiamo vivere nella targetizzazione, la sartorialità, la personalizzazione. Penso un po', come può una dieta mediterranea uguale avere lo stesso effetto in un obeso da 120 cm di girovita e in un soggetto magro da 80? Dobbiamo normalizzare, capire come si è arrivato a quel tempo e poi cercare di modificarla. In linea di massima la mia risposta alla tua domanda è sì, però ricordiamoci che ci sono le differenze di genere, le differenze di età, le differenze di girovita e soprattutto ricordiamoci che si può sempre tornare indietro. Questa è la risposta finale e il messaggio da portare a casa. Una serie di nozioni mediche ci dicono che il tempo di tornare indietro esiste sempre fino alla fine, per cui mai la nutrizione curerà le malattie, ma sarà invece insieme allo stile di vita il paradigma della salute per poter evitarle. Grazie Antonio, sono sicuro che questo sarà possibile anche comprenderlo sempre di più grazie al lavoro che i ricercatori fanno e mi immagino che proprio contesti come la Notte Europea dei Ricercatori sia poi l'occasione per diffondere e raccontare i risultati della ricerca scientifica. E soprattutto per spingere i giovani a sottolineare quanto è importante la ricerca indipendente, come quella della Fondazione AIRC, perché serve a creare e a produrre la creatività delle idee di chi vuole dimostrare che anche il contrario di quello che pensa è vero. La libertà e la creatività che poi per serendipità danno ai giovani la possibilità di identificare tante terapie, come è successo nella storia della medicina per le scoperte più importanti. Grazie. Grazie, con questo messaggio salutiamo tutti gli ascoltatori, ringraziamo l'Università degli Studi di Bari per averci ospitato. Buonanotte Europea dei Ricercatori a tutti. Grazie Antonio. A tutti, grazie a voi.